Fill my heart with song and let me sing forever more You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true Ben trovati, nuovo appuntamento con l'ospite e protagonista di questa puntata l'insegnante Toni Russo, presidente del Circolo di Cultura di Sciacca quindi promotore di diverse iniziative in città Grazie intanto per aver accettato l'invito e aver partecipato alla trasmissione Grazie a voi Toni, chiediamo intanto il Circolo di Cultura, che cosa rappresenta per la città di Sciacca? Intanto esiste da più di 50 anni, quindi ha sempre rappresentato qualcosa un riferimento, non a caso abbiamo una grande collezione di quadri che risalgono agli anni 60, per cui sin da allora si facevano delle mostre e questa collezione, grazie agli artisti che hanno donato nelle varie occasioni, hanno lasciato delle loro opere E oggi, sì, abbiamo fatto un po' di lavoro in più con i miei amici che sono nel Consiglio di Amministrazione abbiamo, diciamo, dato una spinta a tutto questo addirittura organizzando da tre anni dei concerti quindi abbiamo un po' cambiato anche le abitudini dei nostri Non è più il Circolo, il luogo di passatempo, ecco, del 3-7 o della briscola Certo, non è più quello di fatto ai tempi era una moda molto forte sia all'unione che alla cultura, questo del gioco durante il periodo natalizio, molto forte insomma, era una cosa molto sentita allora No, questo è cambiato, naturalmente abbiamo i nostri biliardi come sempre, però ci sono tutte le altre iniziative che abbiamo messo su, non solo da quando ci sono io già prima con Giovanni Di Vita era iniziato, diciamo, un nuovo percorso Un percorso che, come diceva lei vede il Circolo di Cultura il luogo per diverse mostre incontri, dibattiti voi mettete a disposizione in fondo i locali anche per iniziative che possono essere promosse da altre associazioni? Molto, molto spesso è così nel senso che ci sono varie voi sapete, a Sciacca ci sono tantissime associazioni i club service che utilizzano il nostro circolo quando vogliono, proprio perché intanto il luogo pubblico appartiene al comune quindi questo dobbiamo dirlo nonostante noi siamo quelli che lo gestiamo e quindi siamo anche tenuti a farlo ma lo facciamo con piacere perché è uno dei pochissimi posti, fra l'altro dove si possono fare delle mostre perché a Sciacca di fatto non c'è alcuna galleria e quindi da quando poi noi abbiamo ristrutturato l'impianto luci della galleria chiamiamola così è ancora più gradevole poter realizzare queste mostre Tra l'altro è fortunata anche l'obbligazione siamo proprio sulla piazza principale della città voi tenete la situazione sotto controllo? Sì, questo sedersi davanti alle porte risale già nel film è stata tutta abbandonata era uno dei momenti più importanti nel film continua ancora adesso come se non fosse mai successo niente insomma tranne che ora è a colori e quindi questa abitudine è molto bella anche perché si sta lì, si chiacchiera si incontrano le persone c'è questo momento di scambio e poi c'è la possibilità per chi non è socio di poter entrare, visitare noi auspichiamo di avere nuovi soci abbiamo fatto anche una promozione c'è una difficoltà anche per voi quindi anche a trovare poi quelle che sono le risorse certamente, anche perché i locali sono molto grandi c'è un gestore che bisogna pagare ovviamente tutte le spese tipiche dalla spazzatura a tutto il resto quindi naturalmente aumentare il numero di soci a noi permetterebbe di stare più tranquilli e comunque fino ad ora si riesce a farlo anche perché dobbiamo dirlo c'è un fee quello che paghiamo al comune che è ancora accettabile è stato argomento di polemiche questo negli anni passati si è detto ai circoli a partire anche dai circoli per non parlare poi di altri che soffriiscono comunque di locali del comune pagano troppo poco dovremmo incrementare eppure c'era proprio questo aspetto che altri mettevano in evidenza cioè la difficoltà di questi sodalizi poi a continuare a mantenere attive e operative queste sedi sì, sì, molto diciamo che aumentare l'affitto per voi sarebbe un problema non indifferente sì, sarebbe molto difficoltoso capiamo che ci sono anche delle leggi che impongono probabilmente anche ai comuni di fare questo naturalmente essendo noi una struttura pubblica che non ha scopo di lucro evidentemente questa cosa diciamo passa in cavalleria come si suol dire si chiude l'occhio si chiude l'occhio ma diciamo che siamo un po' una prumanazione del comune in fondo cioè quello che il comune potrebbe fare di questi locali lo facciamo noi come associazione certo, farci una banca sarebbe brutto insomma per quello che oggi la domanda iniziale era cosa rappresenta il circolo per quello che rappresenta oggi il circolo che è un punto di riferimento per i libri per le mostre per la musica per la gente che vuole soffrire dei nostri locali in qualsiasi modo abbiamo avuto anche dei giovani che hanno fatto che non sono soci ma li abbiamo ospitati perché dovevano fare delle riprese o dovevano cioè su questo siamo molto aperti anzi vogliamo che ci sia speriamo questo modo di accettazione anche per diventare soci insomma è una cosa che ci aiuterebbe molto quindi il circolo di cultura luogo di incontro luogo di promozione della cultura come dicevamo voi ogni anno programmate l'attività poi da svolgere durante chiaramente i vari mesi e quest'anno su che linea quali iniziative avete privilegiato? allora come dicevo abbiamo riproposto questa serie di concerti a partire dal mese di ottobre fino ad aprile e li abbiamo programmati questa non è una cosa facile ma ci riusciamo e questo è bello perché diamo il programmino la gente se lo porta a casa e quindi sa che ogni mese c'è una programmazione fra l'altro in questi prossimi mesi siccome al circolo c'è caldo e usufruiremo della bontà del castello incantato per cui abbiamo deciso di fare per la prima volta una rassegna musicale estiva e abbiamo già iniziato il 21 aprile e il prossimo sarà il primo giugno quindi un prefestivo ne avremo un altro il 6 luglio musica mediterranea questo è il tema anche di questa rassegna musicale proprio perché cerchiamo di fare anche le cose con una certa logica senza buttare lì insomma un po' tutto tra l'altro la caratteristica che vi contraddistingue è proprio quella di operare con altre associazioni o con altri operatori culturali lei faceva riferimento al castello incantato voi avete con la cooperativa Gorà anche portato avanti un'iniziativa in occasione delle celebrazioni quest'anno di Filippo Bentivegna sì 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 siamo stati diciamo collaborativi con Giuseppe Colino e con la Gorà tra l'altro con Giuseppe Colino ci trascorsi trascorsi di cose fatte insieme tanti anni fa molto belle poi magari ne possiamo pure accennare se è necessario sì abbiamo fatto per il cinquantenario abbiamo fatto due tre mostre una quella realizzata dai nostri ragazzi del liceo artistico perché io insegno al liceo artistico e poi una seconda una personale di Leonardo Fisco dedicata sempre a Filippo Bentivegna la terza in questo momento non mi sovviene però la cosa più importante e più bella secondo me è che dai lavori dei ragazzi abbiamo tirato fuori due quadri che adesso sono stati già realizzati e consegnati al Lago Rà cioè al Castello Incantato e sono due opere sul legno che metteremo una nel centro storico una all'ingresso del Castello Incantato in ricordo di questa detta così sembrerebbe tutto rosa e fiori non facile una cittadina viva dal punto di vista culturale non manca nulla invece i problemi ci sono a partire dagli spazi lei ne faceva accenno poco fa poche strutture e nessuna struttura museale almeno se non riadattata sto parlando del fazello chiaramente in questo momento quindi una città che non è riuscita negli anni a trovare anche gli spazi adeguati da mettere a disposizione che città è e che prospettive ha allora intanto io credo che un po' bisogna darsi da fare perché io non sopporto la gente che parla sbraita scrive dappertutto questo non va questo non va però come diceva Kennedy tu cosa fai per no prima di dire cosa stai facendo questa è un po' una caratteristica nostra noi siamo il paese delle lamentele e questa è una caratteristica che a me dà molto fastidio perché quando si parla e quando si dice e quando si critica bisogna per prima cosa essere in prima linea e fare le cose e questo lo dico perché è giusto dirlo perché è insopportabile fra l'altro e guarda detto questo però alcune problematiche ci sono assolutamente è certo che ci sono e non si è investito nel tempo non si è creduto di investire sulla cultura certo certo perché fra l'altro in una città come la nostra oggi fare cultura nel senso ampio del termine è necessario perché va di pari passo col turismo va di pari passo con quello che la città offre insomma noi dall'ultimo anno andare a Palermo è bellissimo perché il centro storico chiuso tantissime iniziative città della cultura Palermo è cambiata quindi anche su queste cose dobbiamo capire cosa fare nel 2007 insieme con un mio amico con l'Augero Di Leo abbiamo aperto il complesso monumentale Santa Margherita cioè l'ex micron per capirci dopo circa 20 anni l'abbiamo riadattato adattato un po' di luce eccetera abbiamo fatto delle mostre delle cose molto che si ricordano la mostra del corallo quella dedicata a seduta e abbandonata cosa voglio dire tra l'altro offrendo a molti la possibilità di vedere l'interno di questi locali perché non tutti molti non li conoscevano non li conoscevano non li conoscevano voglio dire con questo che bisogna anche inventarsi delle cose io speravo che per esempio il complesso dell'ex San Francesco potesse ritornare nelle mani del comune anche già questa prossima estate perché avevo già una proposta pronta da offrire al comune con cui spero di fare fra l'altro una mostra importante quindi bisogna anche inventarsi delle cose e ci sono delle associazioni che hanno lavorato sul territorio voglio ricordare ritrovarsi che ha fatto le sue mostre l'anno scorso noi abbiamo iniziato Welcome a San Michele e lo rifaremo quindi do una notizia diciamo e dobbiamo solo decidere la data con l'assessore proprio perché bisogna anche inventarsi delle cose nuove inventarsi luoghi che non ci sono dal punto di vista strutturale perché si è perso molto tempo purtroppo si è perso molto tempo ci sono locali tantissimi locali che il comune o comunque anche altri potrebbero mettere a disposizione utilizzare adattare per realizzare una pinarcoteca sala di convegni e tutto quanto cioè non si può pensare di fare una mostra dentro la chiesa di Santa Margherita perché la chiesa vincerà sempre contro i quadri io dico ci sono degli spazi ogni spazio deve essere sfruttato per quello per quello che è stato creato ora ci si può arrangiare adattare però avendo tra l'altro gli spazi a disposizione poi alla fine una questione di volontà lei diceva la volontà non manca da parte delle associazioni non solo il circolo di cultura io lo facevo facevo riferimento poco fa da questo punto di vista a tante associazioni e non solo giovanili giovani protagonisti che cosa manca mettere in rete un po' tutte queste proposte tutte queste iniziative perché succede anche una cosa che ogni volta noi almeno come televisione riprendiamo si organizza ad esempio il calendario delle manifestazioni estive non ci si mette d'accordo e si fanno combaciare degli eventi nella stessa sera nello stesso periodo quando poi altre serate rimangono scoperte allora viene il dubbio che non ci si parli quanto meno che non ci si metta d'accordo sì diciamo che negli ultimi anni qualcosa è cambiato avevamo realizzato con le altre associazioni alla consulta della cultura non quella istituzionale che ha lavorato per un lungo periodo si può fare di più io credo un ruolo importante lo può avere il comune da questo punto di vista anche se le associazioni devono imparare a diciamo a saper gestire diciamo al meglio le loro comunicazioni certo nel periodo di agosto anche se ci sono più cose ci sta insomma è normale però in altri periodi bisogna anche capire che non bisogna pestare i piedi agli altri o quantomeno cercare poi alla fine perché poi per non accavallare gli eventi evitando anche di perdersi manifestazioni pure importanti un ruolo così di coordinamento lei faceva accendendo alla consulta della cultura altro organismo importante però deve esserci sempre la mediazione nel rapporto con il comune e poi il comune che in fondo deve essere l'ente che gestisce soprattutto in questo prossimo periodo estivo purtroppo si calano tutte cose in agosto per esempio invece luglio secondo me è un periodo da sfruttare tantissimo così come questo nostro periodo primaverile che vede tanti turisti stranieri perché c'è meno caldo e quindi arrivano i tedeschi gli olandesi eccetera da questo punto di vista bisogna anche promuovere in maniera più accurata più lungiverante anche diversa insomma lei è un attimo osservatore della città che cosa ha notato che cosa nota che ancora stenta da questo punto di vista anche della promozione della città dell'accoglienza in che cosa siamo carenti tutti la buona educazione solo quello la buona educazione è parcheggiare la macchina dentro le strisce e non a casaccio la buona educazione è avere un posto cioè un modo per poter buttare anche la cicca della sigaretta e aspettare il posto dove buttarla senza pensare al cioè così io credo che ognuno di noi debba pensare alla città come alla propria casa io non credo che in casa ognuno di noi butta la carta per terra e ci si ritrova questa spazzatura dentro casa se ognuno di noi io lo faccio a scuola quando i ragazzi buttano carta per terra e gli dico ti è caduto un foglio di carta mica mi metto lì a rimproverare perché è negativo poi alla fine risulta negativo invece ti è caduto un foglio di carta può risultare una cosa in cui uno si sente insomma segnalato però in maniera anche garbata secondo me è una questione proprio di buona educazione e ce n'è poca di buona educazione c'è un atteggiamento da parte di molti cittadini e anche giovani devo dire che non capiscono che certe cose ci appartengono ho visto che hanno buttato giù questo raccoglitore delle cacchie dei cani ho visto una foto non so se è vera perché poi non si sa mai cosa è vera e cosa non è vero quindi c'è anche quello però questo atteggiamento di non curanza di superficialità di non mettere la freccia quando giri con la macchina è un atteggiamento ma quando la buona volontà o la buona educazione non c'è andrebbero anche adottate le misure per far sì che la buona educazione prevalga mi riferisco anche alle multe anche alla punizione alle sanzioni perché poi alla fine se tu tocchi la tasca del cittadino lì c'è una particolare sensibilità e allora alla fine la buona educazione forse viene viene fuori certo è di tutti i giorni la polemica sulla questione della matrice non solo davanti ma anche dietro cioè nella parte dell'abside è insopportabile avere delle macchine parcheggiate perché un turista che vuole fotografare l'abside della nostra chiesa madre si ritrova sempre con qualche macchina bianca rossa arancione e così naturalmente sul davanti dove finalmente dopo tanti anni c'è stata questa riqualificata la nostra città dobbiamo dirlo la nostra città ha cambiato volto da quando c'è stata la riqualificazione c'è l'idea di avere un centro storico che ha una sua valenza una sua importanza è cominciato da quando non siamo stati più un paese insomma siamo diventati una cittadina che può dare moltissimo ed è molto apprezzata io apprezzo tantissimo in questo periodo il fatto che non vedo più i cassonetti in mezzo alle strade allora tutte le polemiche che ci sono in questi giorni con tutte le difficoltà come diciamo noi però bisogna avviarla avviarla io credo che bisogna solo aspettare un attimino come sono i tempi organizzare vedere come si stesse ci saranno delle mancanze sicuramente però il cittadino deve essere anche paziente non si può avere sempre tu ci devi mettere il tuo cioè non puoi avere uno spazzino che ti sta dietro e ti toglie la carta che tu butti per terra cioè sta cosa la devono capire le persone a proposito della questione dei parcheggi alla quale lei faceva riferimento anche l'isola pedonale promossa soltanto in determinati periodi limitata a 15 giorni ad agosto e poi magari spostiamo pure l'orario perché altrimenti urtiamo la sensibilità o gli interessi di determinati comparti un centro storico riqualificato andrebbe chiuso al transito veicolare e per tutti tre mesi estivi almeno allora io non so ho accennato poco fa a Palermo la via Macheda o Macheda era una via assolutamente abbandonata da quando hanno chiuso il centro storico è piena di turisti di bar che hanno i tavolini fuori di vivibilità naturalmente di gente con la bicicletta e tutto il resto alcuni negozianti in cui sono andato per comprare qualcosa mi dicevano io sono aperto sono le due del pomeriggio e all'inizio eravamo contrari oggi siamo favorevoli certo le cose poi vanno mantenute nel tempo se noi chiudiamo il centro storico solo per alcune settimane è chiaro che il cittadino è spiazzato e quindi il sistema non funziona deve durare nel tempo affinché cambino le abitudini allora sarebbe facile dire però prima bisogna fare i parcheggi io lo capisco ma aspettando i parcheggi noi non facciamo niente allora bisogna prendere anche delle decisioni ci sono dei posti che potrebbero essere adattati in questo senso anche i privati nelle zone dello stazione eccetera ma anche pensare per esempio a cosa se ne deve fare dell'ospedale vecchio così come mi rammarico moltissimo del fatto che nessuno guardi all'ex ex insomma al convento dei Domenicani chi non sa cos'è il convento dei Domenicani e sulla piazza dove c'è il parcheggio di piazza Mariano Rossi possibile che anni ed anni di personale politico voglio dire che insomma ce l'avevo anche sotto il naso non si è mai riusciti a mettere d'accordo comune provincia che sono i due enti che ce l'hanno a parte qualche privato per ristrutturarlo per trovare i soldi eccetera cioè quello è uno dei luoghi più belli cioè è al centro della città si potrebbero fare mille cose ognuno ne direbbe una quindi io non la dico ma intanto vi qualificare recuperarlo perché rischia di perdere realmente un patrimonio certo perché so che io l'ho visto di sfuggita so che c'è un atrio molto bello una corte molto bella io ci sono entrata proprio in occasione di uno dei tanti sopralluoghi quando comune e provincia tentarono di mettersi d'accordo per capire cosa farne ma realmente lì dentro c'è un mondo che è più sconosciuto addirittura le vecchie celle perché tenevano i detenuti tra l'altro è immenso sì molto grande poi dà sulla parte anche di Corso V di poco conto però noi abbiamo la fortuna di avere questi gioielli e non ce ne curiamo accanto a una delle più belle chiese che è la chiesa di San Domenico Piazza San Domenico o Piazza del Popolo come l'abbiamo chiamata dopo l'Unità d'Italia è lì insomma che ha una come dire ha una spettacolarità che è legata appunto a questa terrazza molto bella sul mare insomma e quindi sarebbe utile tutto questo poi magari il parcheggio scomparirà perché se ne farà un altro da qualche altra parte quindi significherebbe ritornare ad avere cazza di pisci come si chiama come la chiamano gli anziani veramente un luogo è un cioè io dico sempre alla mattina ogni tanto uscite di casa e fate finta di essere turisti e guardate la città come se foste dei turisti io penso che ognuno di noi scoprirebbe delle cose si innamorerebbe probabilmente si innamorerebbe amerebbe e rispetterebbe soprattutto la nostra città mi piace questo suo approccio che la contraddistingue da tutti noi ci metto pure io per se c'è il tipo che invece critica si lamenta però non offre l'esempio le chiedo questa sua visione della città dei cittadini in relazione anche a quello che è stata l'amministrazione di questa città e non mi riferisco soltanto all'ultima amministrazione ma alle amministrazioni che si sono succedute in che cosa a suo avviso non hanno avuto quella apertura o se l'hanno avuta qual è la sua opinione che cosa è mancato a questa città per fare poi quel salto pur avendo tutte le potenzialità allora non specificando niente e nessuno né di amministratori specifici no anche perché le responsabilità vanno ripartite allora certo in generale io dico la vedo così poco fa abbiamo parlato del cittadino medio che è disattento e gli amministratori sono cittadini come gli altri e sono stati disattenti come gli altri molto disattenti perché loro dovrebbero avere un occhio più lungo capire che in certi posti bisogna fare delle cose capisco la burocrazia che è una di quei c'è un aspetto che imbavaglia tutto e lega tutto io lo vedo anche a scuola insomma negli ultimi anni è diventato tutto un po' così formale tutto eccessivamente e quindi capisco che ci sono del frenato da questi riempimenti che ci sono dei freni però ci sono delle cose che bisogna fare con attenzione che bisogna non diciamo con stravaganza o pensando solamente che basta dire che si fa e poi come si fa si fa quando si decide di farlo bisogna stare attenti a tutto a come fai la pubblicità forse un progettualità un progetto di città una visione di città mi riferisco anche ad esempi di altri comuni vicini che noi facciamo in genere anche con Menfi che è cresciuta tanto perché ha avuto una visione un obiettivo un progetto rispetto a noi che invece avevamo tante potenzialità tante cose da sfruttare forse ci siamo persi dietro a tante cose e non ne abbiamo privilegiate alcuna città della ceramica città del corallo città delle termine città di questo città di quello però è mancata la progettualità perché noi abbiamo una classe politica in generale in Italia anche che non ha il senso civico che è quello del tipico del nord Europa che è quello del fare le cose perché è un dovere morale quindi la moralità in questo senso non la moralità quella di cui si blatera tanto alla grillina diciamo scusate se mi esprimo ma la moralità delle cose fatte in maniera oculata cioè di fare attenzione a quello che il territorio ha bisogno e di quello che hanno bisogno le persone nel campo del sociale e tutto quanto io mi limito a quegli aspetti che più conosco quando si realizzano un'estate saccenze ma anche non lo so anche il carnevale tutto tutto quello che ci gira intorno questa progettualità non c'è perché non si ha l'idea di che tipo di turismo vogliamo che cosa offriamo al turismo e ai cittadini perché bisogna fare crescere anche i cittadini qua non è un problema lo facciamo per i turisti intanto lo facciamo per noi se io faccio le mostre perdo tempo perché non è che il mestiere mio io mi guadagno da vivere in altro modo io lo faccio perché mi piace e allora questo fare le cose perché piacciono deve essere il punto figurarsi essere amministratore cioè ci sarebbero da fare migliaia di cose non ho avuto mai la fortuna le chiedo lei ha avuto anni tanti anni fa qualche approccio così con la politica qualche candidatura al consiglio comunale diverse candidature poi più niente perché poi si è scocciato poi ha deciso che era meglio fare altro sì ma non perché per dire che quello che lo fanno oggi fanno male no anzi sarebbe bello potersi impegnare il discorso è che c'è c'è troppo provincialismo c'è troppo terra terra cioè siamo ancora terra terra io non vedo una classe politica non parlo né di questi di oggi di ieri io voglio dire c'è un modo di fare che non è di una città come la nostra noi non lo vogliamo capire ma Sciacca non è una cittadina qualunque noi siamo al centro di una come dire di un via vai no che si chiamano Selinunte Agrigento la sponda mediterranea cioè noi potremmo essere un grande punto di riferimento e lo dobbiamo diventare da questo punto di vista fra l'altro abbiamo avuto la fortuna di avere fatto i quattro alberghi della Sitas una volta ho detto che erano un crescente sono stati un crescente del turismo perché se non c'erano questi quattro alberghi noi avremmo avuto le solite pensioncine per le terme poi le chiudevano pure quindi pure le pensioncine dico ma è stato il grande volano poi c'è stata la Roccoforte di cui fra l'altro mi sono pure occupato diciamo indirettamente tutto questo si è fermato non so se l'avete notato tutti quegli quei investimenti grandi investimenti Melià come si chiamavano Melià e altri ho visto che c'è stato un momento che si sono bloccati tutti non capisco perché perché c'era un'attenzione mondiale e c'è ancora probabilmente perché se no Google che ci viene a fare qua e se viene ci viene perché c'è una struttura altrimenti non sarebbe proprio venuto e se viene Google qua a questi qua le orecchie e gli occhi fategli alzare dentro la città fategli capire cosa c'hanno cioè noi non siamo una cittadina qualunque non lo vogliamo capire e però l'errore il problema non nasce proprio da quegli anni da quell'idea di città che doveva diventare il terzo polo turistico e poi non sono riusciti a realizzare ora è vero hanno creato queste strutture hanno creato il teatro così come tanto altro però lasciando in fondo a metà questo progetto forse chi lo stava progettando che era Mannino poi ha finito di fare diciamo politica che aveva un progetto secondo me Mannino ce l'aveva un progetto era preso anche da quelli che erano i tempi di allora era più facile indubbiamente da un lato era più facile dall'altro magari erano altre situazioni però però c'era il progetto probabilmente c'erano anche degli errori che non dico lui ha fatto ma in generale quella classe politica perché non ha capito che stavano facendo qualcosa di grande cioè noi abbiamo tutti lo criticano il teatro è una delle strutture architettoniche e moderne che le trovi a Londra hanno verata comunque nei manuali di architettura quindi piaccia o non piaccia sì ma ora ci sarà quello che dice sì ma è chiusa perché non si fa diamo tempo a questa questa di oggi quella di ieri ha fatto qualcosa questa di oggi ne farà un'altra cioè io cerco di pensare sempre positiva non ci riesco a essere una certa nostalgia in quella classe politica in quel momento storico rispetto a quella attuale sbaglio lei non si vuole sbilanciare politicamente allora no no io mi sbaglio che c'è un po' ma vuoi mettere tu Di Maio con Berlinguer o vuoi mettere Aldo Moro il 9 maggio quando passa quando passerà qua i ciclisti è l'anniversario della morte di Moro e di Cinisi aiutami di Peppino Impastato dico stiamo parlando di una classe politica che era sì quella corrotta la prima repubblica di Pietro tutto quello che è successo Craxi tutto ma era una classe politica che aveva testa che sapeva parlare pure in italiano e quindi quello è cioè oggi io non lo so ma la classe politica rispecchia quello che siamo noi ora ma infatti noi purtroppo siamo noi a eleggere queste persone io non so se lei se lei ha visto il film l'ultimo dedicato a Berlusconi e poi ci sarà no 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 si chiama Loro 1 e Loro 2 che uscirà fra poco e allora in questo film che si raccontano di queste ragazzine che si atteggiano cioè noi scontiamo vent'anni di berlusconismo di tv berlusconiana di modo di fare e di cultura da canale 5 Italia 1 tronisti ragazzotti tacco 12 cioè le devo dire cioè le posso dire comunque non pensavo di parlare di questo lo faccio sempre con i miei amici a parlare di queste cose dico noi scontiamo questo tipo di cultura dove l'apparire è più che l'essere e allora siccome siamo ancora lì e speriamo che finisca speriamo che finisca ma non so con chi deve finire al momento siamo messi al quanto male non riusciamo neanche a capire perché poi è solo c'è solo rabbia o solo confusione quindi diciamo nomi allora il partito democratico che mi piace a cui io mi sentirei legato mi è venuto in mente ho detto ora mi iscrivo che è perdente perché a me piace andare nelle cose perdente e mi ci iscrivo chissà magari lo faccio i 5 stelle cioè 5 stelle non lo so la gestione che hanno fatto stanno facendo hanno fatto di tutto quello che è avvenuto che cosa ha rappresentato a suo avviso l'espload del movimento 5 stella che cosa è dovuto come dicono alla protesta alla rabbia del cittadino medio che non ne può più del solito modo di fare politica che cosa è quello sicuramente hanno ragione su tante cose ma poi la diciamo cioè io non so che cosa propongono cioè io se volessi avvicinarmi ai 5 stelle intanto non so se si può entrare perché c'è questo discorso basta andare su internet a vedere sì però io so smanettare su internet ma non credo che cioè non so intanto se uno può entrare e far politica con questa persona poi il loro programma politico a me su alcune cose non è che mi convince perché è sempre molto si adatta e la dimostrazione ancora più evidente è stata questa crisi di governo che sta evolvendo sta evolvendo si capisce come si capisce come perché vado di qua vado di là o con questo o con quello lo stesso cioè ma io uno che lei dice non si hanno più neanche punti di riferimento uno che ha vissuto ai tempi in cui esisteva il partito liberale che si differenziava dai repubblicani che si differenziava dall'ADC dove c'era un partito comunista che era partito comunista cioè come fa a capire che cos'è il movimento 5 stelle ma ha sovvisto il cittadino oggi è attento a queste differenze politiche o accomuna tutto alla fine l'ideologia politica non è venuta meno proprio perché lo spettacolo che ci hanno offerto poi è stato questo allora se si era comunisti si era comunisti a vita e per convinzione oggi oggi si è interisti giuventini napoletani eccetera oggi le opinioni diciamo che cambiano con più facilità insomma noi nei bar ci viviamo ci andiamo e sentiamo quello di cui si discute la gente si accalora per un rigore e magari non ha il piatto di pasta a tavola voglio dire che c'è molto molto modo di fare da parte delle persone assolutamente superficiale bisogna stare attenti a quello che si fa a quello che si vota non si può votare solo per la rabbia bisogna anche capire cosa cosa non con la pancia ma con il cervello sì perché non è che voglio adesso prendere le difese del PD per esempio o di Renzi che mi sta pure antipatico ma troppo facilmente sta antipatico voglio dire cinque anni di questo governo che c'è stato e se non ci fosse stato questo governo che cosa avremmo potuto avere noi ci sono state delle cose assurde magari fatte ma molti provvedimenti hanno un approccio a vedere sempre il lato positivo delle cose allora le chiedo spaziando anche della politica proprio per Irmoul quella che è la sua professione alla fine insegnante insegnante di lingue se non sbaglio diceo artistico buona chi altra istituzione scolastica per la città di Sciacca lei che ha questo contatto quotidiano con i giovani come li vede perché c'è un po' di qualunquismo anche quando si parla dei giovani o vengono denigrati perché sono superficiali attenti soltanto ai telefonini e bene i materiali lei invece coglie in questi giovani anche il sentimento di disagio di non capire in che mondo stanno vivendo guarda è difficile è difficile soprattutto per chi dovrebbe già essere in pensione diciamo e non ci può andare anche se a me il lavoro che faccio mi piace tantissimo però diventa difficile perché oggi in 14enne 15enne apparentemente ha mille interessi perché noi facciamo la guerra contro il mondo io lo dico ai ragazzi gli dico scusa posa il telefonino perché tu non posso competere col telefonino e allora questi interessi però non sono come dire guidati in modo tale che abbiano una come dire una loro ricaduta molti ragazzi sono quelli che fanno musica quelli che si interessano di danza tutte queste cose qua però scontano quello che dicevo prima scontano questa cultura dell'apparire che è assolutamente negativa perché non si dedicano alle cose è inutile dire le solite cose non leggono libri cioè è così difficile fargli leggere un libro però nonostante questo ogni tanto trovo qualcuno che in classe non mi sta attento perché si sta leggendo un libro per dire mi è capitato mi sono pure arrabbiato ma non perché allora non era il momento giusto però andava colto il segnale positivo poi dopo mi sono arrabbiato però ho detto però fammi vedere che il libro è ma questo atteggiamento dei giovani non dipende da questa generazione di genitori un po' presi troppo dalla sindrome di Peter Pan siamo sempre i giovani dobbiamo essere amici dei figli non più genitori come lo sono stati i nostri nei nostri confronti con tanti divieti tanti no eppure siamo cresciuti lo stesso senza essere infelici la fine torniamo se la politica è lo specchio della società anche i giovani sono uno specchio di quello che è è stato il nostro modo di educarli c'è una delega in bianco che viene data alla scuola da parte dei genitori spesso e succedono le cose che sappiamo anche insomma di chi questa delega in bianco non può essere solo nostra l'educazione diciamo generale è fatta dalle famiglie il modo di fare di comportarsi io spero che fare la differenziata ci aiuti a capire che c'è un modo diverso di vivere no perché questo modo questi atteggiamenti se tu vai al nord nord Europa buttare la carta dentro il cestino è normale non lo devi insegnare a qualcuno cioè fa parte del modo di vivere quindi parte dalla famiglia ovviamente allora sta tutto lì quando un genitore cammina con il bambino messo davanti senza la cintura è un irresponsabile cioè dobbiamo dire queste cose oggi qua cose normali cioè a un bambino che sta in macchina ci devi mettere la cintura e te la devi mettere pure tu invece questo 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 modo che sia senta ma quanto è difficile oggi fare l'insegnante lei proprio faceva accenna ad alcuni episodi di cronaca che sono successi e che fanno riflettere non solo alunni studenti che picchiano gli insegnanti ma addirittura genitori che lo fanno per fortuna noi abbiamo noi siamo lontani magari da questa realtà però ci sono in particolare voglio sottolineare al liceo artistico c'è un'utenza buona metà viene dai paesi anche lontani perché siamo l'unico artistico della zona e di tutto il circondario insomma quindi vengono da Contessa Entellina Roccamena insomma abbiamo un'utenza molto tranquilla certo ci sono ragazzi è cambiato però il rapporto con l'insegnante rispetto a quando era l'uno lei sì sicuramente c'è magari meglio perché c'era in certi casi anche un'esagerazione però c'è l'esagerazione contraria anche oggi voglio dire che quando un ragazzo ti saluta ciao che non è un problema attenzione non lo pongo come problema però è uno status mentale che non che non c'è che non è quello del rispetto allora siccome dipende anche dall'insegnante saper tenere una classe riuscire a coinvolgerli è difficile coinvolgerli perché ci sono troppe disattenzioni o come dire magari noi stessi abbiamo bisogno di generazioni nuove di insegnanti che hanno strumenti diversi io mi sono adattato noi abbiamo ormai tutto online noi ci ci siamo insegnanti che nonostante l'età voglio dire avete colto abbiamo abbiamo dovuto abbiamo dovuto come tutta la nostra generazione c'è dovuto correre con i tempi e adattarci perché come il ministero in generale ha digitalizzato tutto lo ha digitalizzato anche nella scuola quindi tutto questo ci aiuta sotto tanti aspetti perché posso mettere un moto mentre sono qua se voglio per dire ma questo modo questo rapporto con gli studenti deve essere riproposto in maniera diversa c'è bisogno di gente nuova c'è bisogno che mi mandino in pensione per capirci non perché non mi piace andare a scuola perché c'è bisogno perché lei riconosce che non è più il momento la situazione che la scuola è cambiata e gli alunni hanno esigenze che lei non è in grado magari di formare hanno bisogno della generazione loro cioè quella che è nata pure con che è digitalizzata in questo senso lei parlava del fatto che il liceo artistico indubbiamente è una realtà importante anche perché è un punto di riferimento per tanti giovani del circondario che cosa rappresenta il liceo artistico è proprio una delle scuole più creative che ci possano essere ma siamo sempre sul territorio io da quando sono lì da cinque anni circa sei anni adesso cioè al di là delle mie ore di insegnamento poi mi sono impegnato con i colleghi bravissimi quelli che fanno poi le cose alla fin fine abbiamo fatto dei progetti molto belli grazie anche alle associazioni come Rotary Lions eccetera e siamo stati sempre sul territorio e questa è la cosa più bella se andiamo nel centro storico ci sono le opere dedicate a Germi con le vie germiane l'abbiamo creato grazie a Rotary una è scomparsa questo lo chiedo lo chiedo ufficialmente zona orfani c'era un totem con un'opera d'arte fatta dai nostri ragazzi ritorniamo hanno fatto no hanno fatto dei lavori e quest'opera è scomparsa io chiedo ufficialmente di ripristinarle di sapere no di sapere dove è andata a finire l'avrà spostata ma dove è dove è andata a finire era uno dei sei punti dei sei set che noi avevamo messo per indicare questo abbiamo fatto un'altra cosa molto bella cioè abbiamo riprodotto i quadri che ci sono al museo scaglione le copie le abbiamo poi vendute a persone per rifinanziare grazie al Lions club host di Sciacca e poi tante altre cose l'ultima quella che dicevo prima del Castello Incantato ma si sono esempi di come scuole istituzioni associazioni messe assieme poi alla fine producano risultati bisogna inventare e diversi risultati non solo quello di produrre manifestazione e cultura ma anche di coinvolgere i giovani e di lasciare qualcosa sul territorio perché i ragazzi hanno conosciuto il museo scaglione poi anche grazie all'alternanza scuola-lavoro che è molto criticata però ci ruba tante ore devo dire lo capisco alle ore normali però i ragazzi quando fanno un'alternanza scuola-lavoro come fanno da noi che è produttiva perché sta sul territorio lo conosce lascia qualcosa che sono attività che comunque consentono al giovane di dare un contributo attivo e alla città di arricchirsi di questo l'alternanza scuola-lavoro fatta nei licei tradizionali diciamo anche con progetti interessanti però in una scuola come la nostra ha prodotto delle cose molto belle una scuola come la nostra consente cioè il terreno fertile dico una cosa semplice mettendo insieme quello che sono nel senso come presidente del circolo e scuola ho fatto fare la catalogazione della nostra biblioteca del circolo e dei nostri quadri che è stato un lavoro di esperienza perché catalogare è un mestiere e quindi i ragazzi hanno imparato cosa significa catalogare non è una cosa scrivere catalogare e lo puoi fare poi come lavoro in un museo quindi Tony Russo insegnante che si rapporta quindi con i giovani di oggi Tony Russo è stato un giovane che ha animato la città addirittura un hippie svegliamo no Zampa Talonia Zampa comunque una persona che si divertiva ricordiamo lì quelli che anni erano dopo le contestazioni c'era ancora il fermento io nel 68 è stato un bel periodo anche dopo certo nel 68 che quest'anno è il cinquantenario dico bene sì nel 68 avevo appena 13 anni insomma però ha vissuto gli anni dopo certo gli anni dopo il fermento anche di opporsi per esempio alla sitas allora della contestazione della contestazione sì c'è stato io ricordo le prime cinque ragazze a Sciacca che hanno portato la minigonna ed è per me un fatto storico io vorrei la fotografia di queste queste belle signore fra l'altro che conosco alcune perché era che anni erano quelli per i giovani di Sciacca erano anni in cui di grande entusiasmo di grande entusiasmo però in piazza le ragazze camminavano su un lato e i ragazzi da un altro anche la distinzione per centi sociali certo quella era era molto forte quella era odiosa sì a scuola cominciò poi a cambiare questa cosa ci siamo ritrovati classe medio piccola e figli di diciamo di avvocati di professionisti però questa cosa esisteva esisteva anche chi si fidanzava eccetera quindi il cambiare questo le ragazze da un lato e i ragazzi da un altro è stata una grande conquista poi piano piano insomma quindi l'abbiamo vissuta abbiamo buttato il primo seme oggi insomma oggi non si capisce più niente siamo tutti fin troppo liberi oggi forse però allora c'era il gusto della trasversione oggi manca anche questo certo era una conquista era una conquista poi all'università naturalmente il 77 è stato fondamentale il 77 è stato il periodo quello dei cosiddetti indiani metropolitani della crescita culturale importante che poi noi portavamo a sciacca perché c'era un nucleo di studenti extra parlamentare che si riuniva lì in via con lei era un contestatore puro si ma faceva il mio meglio si c'è c'è ero in un bel gruppo c'era che era più io sono sempre stato un poco moderato nelle cose però ero lì partecipava a quel diciamo che gli ultimi numeri della rivista Lazzotta la famosa rivista Lazzotta ci abbiamo ancora partecipato la mia generazione ed era è stato un bel come dire un posto dove ci hanno insegnato tanto quelli più grandi di noi voglio ricordare la buonanima di Paolo Saladino per esempio che era una persona eccezionale chiudiamo anche ricordando i trascorsi televisivi di Tony Russo nella nostra emittente sempre ma non gli ultimi proprio da quando mi hanno detto addirittura una trasmissione che simulava una sorta di ring del pugilato questa no questa è stata no la trasmissione era così si chiamava Aquilone Aquilone era un programma che era stato finanziato dal partito comunista italiano segretario credo che fosse calogeno segreto Siso Montalbano era un deputato allora quindi loro hanno voluto un programma che non so perché io non è che ero nel pc anzi si è trovato lì no comunque sono stato sempre in quell'area sempre no poi c'è stato un periodo in cui ho conosciuto altri ambiti che non ho capito perché li ho conosciuti comunque questo programma di cui ho le cassette le vorrei riversare fra l'altro partì come il programma del partito comunista poi diventò solo il programma mio nel senso che facevo le cose un confronto tra diversi no no facevamo i servizi su quello che non c'era che non funzionava quindi ci sono documentazioni anche di strade per esempio che oggi esistono che allora erano in costruzione che cosa significava fare televisione anche in quegli anni ma intanto farla da voi che io chiamo la vostra la vostra la tv artigianale e l'artigiano è diciamo il massimo delle cose è ancora di più allora insomma che c'erano meno mezzi tecnologici quindi è stata un'esperienza bellissima quella lì per la prima volta poi ho mollato completamente non ho fatto più tranne quattro anni fa con voi con Piazza del Popolo che che cosa rappresentano le televisioni per la città di Sciacca spesso mi strattate pure no io ho sempre detto che alcuni addirittura sostengono che se c'è questa vena politica esasperata la colpa è delle televisioni ma è vero è vero questo ma è vero che noi praticamente siamo siamo nella più grande cioè perché siamo speciali a Sciacca rispetto ad altri paesi perché noi abbiamo un continuo confronto con quello che succede nella città grazie a voi cioè noi conosciamo quello che succede addirittura c'erano le dirette dei consigli comunali c'erano c'erano dico ci sono problemi di soldi non lo so quello che sia comunque c'erano anche quelli ha significato per noi una grande crescita certo se poi ogni cosa tu la fai la fai diventare una polemica inutile io dico è giusto segnalare dire polemizzare tutto quanto però bisogna anche essere propositivi nelle cose e le due televisioni poi ce ne sono due come io dico sempre come due club juventus a sciacca ci sono sempre due cose no? questo però è sempre stato un bene perché comunque mantiene certo perché io ricordo quando sono nate le cosiddette cioè la competizione le radio libere le radio libere le radio base per capirci una delle prime e poi sono venute cioè si è nati come radio mi pare anche a Montecroni e poi è diventata TV è stata la prima radio è stata la prima radio quindi questa cosa qui è stata importantissima per la città perché molti di noi e io ho fatto queste esperienze non le avrei potute fare così le hanno fatte migliaia di persone che addirittura avete vi siete inventati un mestiere diciamo inventati avete potuto oggi sono realtà lavorative importantissime ma lo dovevano diventare perché quello che era nato come una passione un passatempo poi non lo è più ma perché te lo impongono anche ministeri e d'altro siamo fortunati noi siamo fortunati abbiamo due tv abbiamo tutto non ci manca niente ma dobbiamo solo metterci la testa la gente deve capire lo deve capire e gli amministratori pure perché abbiamo detto che sono uguali che bisogna avere attenzione bisogna amare Salvatore Monte aveva fatto lo slogan Just Love It mi pare che è vero è però mettiamolo in pratica però mettiamolo in pratica non possiamo però essere una città che vive solo di diciamo di questo atteggiamento noi abbiamo una grande industria che si chiama turismo negli ultimi 5 anni 10 anni sono nate 60 bed and breakfast la città il turismo diffuso in città c'è è una realtà ne parlava Michele Ferrara 10 anni fa è diventata una realtà importante ci sono persone che hanno dato degli input magari erano troppo precursori ancora non arrivavano oggi per fortuna sì dico per fortuna c'è una realtà di questo genere che bisogna però come dire coccolare mettere insieme e far crescere organizzare far crescere ma la gente deve crescere la gente deve mettere la freccia quando gira con l'automobile non deve buttare la spazzatura per strada sagge parole grazie abbiamo finito è stata una piacevolissima chiacchierata grazie a Tony Russo a voi per averci seguito e grazie come sempre a Villa Palocla che ci ospita appuntamento alla prossima settimana